Buon pomeriggio a tutti, spero che sono rimasti pochi a digiuno perché purtroppo abbiamo questo ritardo, chiedo scusa. Allora, io farò un discorso un po' più, diciamo, diverso dal punto di vista radioterapico, ovviamente parlerò di malattia linfonodale. Noi radioterapisti veniamo convocati per il problema dei linfonodi fondamentalmente in tre punti, in tre scenari diversi. Uno è la radioterapia a scopo curativo radicale, quindi una situazione come affrontate voi i chirurghi presenti qui in aula con prostatectomia. La seconda situazione dove veniamo appunto convocati per il trattamento a livello linfonodale sono trattamenti adiuvanti e poi la radioterapia di salvataggio. Per quanto riguarda la terapia curativa a scopo radicale, devo dire che c'è una situazione un po' assurda dal punto di vista concettuale. Perché per quanto voi avete delle belle evidenze che la chirurgia a livello linfonodale ha un valore non solo diagnostico ma anche prognostico, noi purtroppo queste certezze non abbiamo. Il discorso dei linfonodi, della radioterapia anche a livello linfonodale è un po' diciamo rinato nei ultimi anni con le nuove tecnologie, abbiamo visto anche stamattina varie presentazioni di nuove tecnologie radioterapiche. Oggi possiamo avere questo tipo di distribuzione della dose, quindi distribuzioni proprio concave con una buona copertura dei linfonodi e nello stesso tempo un buon risparmio dei tessuti sani. Quindi un nostro grosso problema fino a pochi anni fa. Così è rinata questa domanda to treat or not to treat, quindi trattare o no la pelvi. E purtroppo, vi presento un po' i dati, ecco noi ancora guardando altre patologie perché si fa spesso confronto con altre neoplasie, sappiamo che la terapia, radioterapia lettiva ha un suo ruolo importante terapeutico in varie neoplasie, quindi testacollo, mammella, tumori gastrointestinali, ginecologici. Non è ancora così chiaro per tumore prostatico. Quindi spesso un trattamento viene limitato alla prostata sola. E questo un po' diciamo è correlato alla prognosi del paziente con malattia linfonodale. Vediamo che ancora le linee guida del 2011, quella attualmente in uso, del NCCN, ancora distinguono il paziente con malattia prostatica localmente localizzata, ecco localizzata, quindi le note categorie di rischio. Qui abbiamo i pazienti localmente avanzati con malattia extraprostatica, però non linfonodale. E vediamo che le linee guida americane ancora mettono qui il paziente con N1, malattia linfonodale, come paziente metastatico. E da qui nasce la nostra perplessità di trattare i pazienti che hanno malattia linfonodale, o addirittura sono ad alto rischio di malattia linfonodale, se trattare o no anche la pelvi, quindi fare dei trattamenti locoregionali. Oggi abbiamo sempre più tecnologia anche diagnostica a disposizione, dove possiamo capire quali linfonodi sono interessati o anche qui a livello pelvico addirittura più alto. Ricordo che per tumore prostatico linfonodi regionali sono linfonodi in realtà della pelvi bassa, quindi sono linfonodi sotto la biforcazione delle arterie iliache comuni. Allora, adesso se vogliamo andare a vedere quindi le evidenze per la radioterapia locoregionale, quindi oltre trattamento del T, quindi tumore prostatico, aggiungere o no anche la terapia pelvica, vediamo che purtroppo le evidenze non ci sono. Questo, come dicevo, un po' al contrario dei dati chirurgici. Vedete qui i dati tipo di studi retrospettivi, ma anche randomizzati prospettici che confrontano la radioterapia pelvica, whole pelvis radiotherapy, versus radioterapia solo sulla prostata, quindi una specie di prostatectomia, chiamiamola virtuale, versus prostatectomia e linfadenectomia. Purtroppo non abbiamo evidenze che aggiungere la terapia a livello linfonodale aggiunge il beneficio. Qui vediamo nei studi retrospettivi, cinque studi sono a favore, cinque no, che ci fa capire che questo beneficio, perlomeno se c'è, è molto molto basso. I studi non randomizzati non l'hanno, diciamo, evidenziato. I studi randomizzati, solo uno di quattro studi era inizialmente positivo. Quindi questa domanda rimane aperta. La scuola radioterapica, lo sappiamo benissimo, si divide in due grandi gruppi, di chi ci crede e chi non ci crede nella radioterapia pelvica. Ovviamente c'è il solito discorso di come andiamo a analizzare, di come purtroppo interpretiamo i dati dei studi eseguiti nei anni scorsi, anni 80, anni 90, dove spesso i volumi erano come quelli qui presentati, quindi volumi assolutamente ampi, con, come vedete, inclusione anche delle anse intestinali, in maniera, in questo caso forse non così drammatica, perché con uso qui di bellyboard, però spesso anche con le anse proprio in campo, quindi ovviamente anche con certa tossicità. Quindi questo beneficio non è stato, diciamo, con questo tipo di volumi evidenziato. Oggi abbiamo a disposizione le tecnologie nuove e quindi siamo anche noi molto più selettivi, però purtroppo non abbiamo oggi le evidenze che la radioterapia così selettiva, così accurata, effettivamente porti a un beneficio. Quindi è tutto ancora da studiare. Per quanto riguarda, invece, la seconda situazione, quindi la radioterapia adiuvante, vi devo dire che qui abbiamo delle evidenze, evidenze di alto livello, addirittura anche meta-analisi, per quanto riguarda la radioterapia post-operatoria. Si parla sempre di più, perché negli ultimi anni sono stati pubblicati i tre studi randomizzati, americano, europeo e tedesco, tutti e tre, diciamo, con gli stessi risultati a favore della radioterapia post-operatoria. E addirittura nell'anno scorso viene fuori anche una specie di meta-analisi di questi tre studi randomizzati che conferma un vantaggio in termini di sopravvivenza nei pazienti sottoposti alla radioterapia post-operatoria. Quindi anche questo è un scenario molto importante. Però se andiamo a vedere in dettaglio questi studi, vediamo che in realtà tutti i pazienti erano pazienti N0. Purtroppo, ecco, anche con volumi non ben definiti per quanto riguarda i materiali e i metodi di vari studi, quindi i volumi molto generici. Ecco, qui vediamo anche i dettagli, quindi una zona, diciamo, qui il studio americano, studio tedesco, area periprostatica, quindi non sappiamo se effettivamente sono stati inclusi anche, almeno inclusi anche le prime stazioni linfonodali. fondamentalmente è un trattamento post-operatorio con le tecnologie nuove, oggi ecco, è un volume, diciamo, così limitato alla logia prostatica, alla logia delle vescicole seminari nei casi 3B. Quindi la domanda che ovviamente ci si pone, che ci fanno spesso i chirurghi, è radioterapia post-operatoria nei pazienti, quindi post-operatoria pelvica, nei pazienti di varie categorie. Abbiamo una grossa fetta dei pazienti senza linfadenectomia, dove poi dopo il tumore primario è avanzato, quindi PT3, PNX, dove ci si chiede, ecco, se forse ha senso anche aggiungere la terapia pelvica. PN0 ad alto rischio. Pazienti, oggi abbiamo anche pazienti con singole cellule isolate, quindi PN0 però I+, e ovviamente pazienti con malattia linfonodale PN1. Le certezze che oggi abbiamo sono purtroppo solo per l'ultima categoria. Abbiamo qui uno dei studi più citati, anche se molto scarso dal punto di vista metodologico, la terapia ormonale nel paziente PN1. Oggi abbiamo anche delle belle evidenze, quasi tutte provenienti dall'ospedale, dall'istudio San Raffaele, quindi mi complimento con dei studi che ho rivisto in questi giorni, ho approfondito molto, veramente sono fatti molto bene, anche dall'inizio, iniziando qui con una casistica ancora diciamo molto eterogenea che includeva anche pazienti N+, dove c'è un vantaggio di radioterapia, fino a una serie di pazienti, una serie retrospettiva di 250 pazienti solo PN1, e fino all'ultimo lavoro dell'anno scorso che ha fatto proprio una match analysis, un confronto di caso controllo, caso indice, dei pazienti trattati con la solo terapia ormonale versus terapia ormonale e radioterapia pelvica nei pazienti PN+. E qui vediamo i risultati molto interessanti, vediamo che la radioterapia post-operatoria a livello pelvico nel paziente PN+, migliora la sopravvivenza globale, quindi è uno dei endpoints, come dicono gli oncologi medici, molto validi, non è un soft end point, è un end point molto importante, quindi un vantaggio in pazienti, indipendentemente dal numero dei linfonodi coinvolti. Addirittura qui vediamo che questo vantaggio si evidenzia anche nei pazienti con pochi linfonodi, 2 o 1 linfonodi, quindi è un dato molto importante e credo che è un messaggio anche importante per tutti noi, che forse paziente PN1, quello che si sta già dicendo da qualche anno, non deve essere più considerato un paziente metastatico, quindi un paziente che ha una prognosi in certi casi assolutamente valida. Quindi la risposta qui alla domanda del Van Poppel, se radioterapia è utile nel paziente PN+, dopo la prostatectomia, direi che la risposta è sì. Molto velocemente l'ultimo punto, radioterapia di salvataggio, sappiamo che il paziente operato, ecco PSA dovrebbe essere sotto 0,2, quando supera 0,2, spesso il paziente viene inviato per radioterapia postoperatoria, per la quale ci sono tanti dati, purtroppo oggi soprattutto retrospettivi, e di nuovo la domanda, trattiamo solo la logia prostatica o anche la pelvi, nei pazienti con la recidiva? Allora, qui purtroppo le risposte non abbiamo, abbiamo oggi solo studi in corso, vedete qui quattro studi con casistiche molto numerose, studi che vanno a valutare il beneficio con la terapia di salvataggio, in alcuni studi con aggiunta di terapia ormonale, in alcuni studi, la domanda solo sulla dose, 64 versus 70, se andiamo a vedere i volumi in questi studi, solo uno ha una domanda relativa al volume, perché logia prostatica versus logia prostatica e pelvi, tutti gli altri ancora oggi lo standard per la radioterapia di salvataggio con paziente con la recidiva biochimica è la radioterapia sulla logia prostatica. Per quanto riguarda una piccola ancora situazione molto diciamo, fino a poco tempo fa rara, oggi non più così rara, recidive linfonodali limitate. Oggi con la disponibilità del dato PET, abbiamo sempre più pazienti cosiddetti oligometastatici, quindi con malattia recidivata, però in maniera molto poco estesa, quindi qui un esempio di una recidiva linfonodale. In queste situazioni cominciamo a vedere i dati, i dati qui anche italiani, ma non solo, sulla radioterapia ablativa su singole metastasi, metastasi linfonodali. Qui un esempio di un piano di trattamento un paziente sottoposto a radioterapia stereotassica a livello linfonodale. La cosa molto interessante è che qui vediamo a tre anni, o a due anni, come leggiamo qui come vogliamo, questa curva qui ci sono pochi eventi dopo due anni, però a due o tre anni abbiamo più di 30% di pazienti liberi da trattamento attivo. Quindi qui è una situazione dove possiamo effettivamente rimandare un trattamento ormonale o di altro tipo. Allora, i messaggi che vorrei qui lasciare, ma sicuramente ci sarà una discussione, sicuramente l'interessamento linfonodale oggi rappresenta una vasta eterogeneità. Abbiamo pazienti con veramente varie prognosi, pazienti ad alto rischio, pazienti con malattia linfonodale patologica minima o estesa, clinicamente evidente, o recidive linfonodali. Possiamo dire sempre più, siamo sempre più convinti che casi selezionati di carcinoma prostatico con estensione locoregionale possono essere guariti o perlomeno possono essere liberi da progressione o da terapie con trattamenti multimodali. Quindi, di nuovo, qui su una bella piattaforma per questo tipo di approccio. Ovviamente, è ancora necessario lavorare molto sia sui aspetti clinici che anche aspetti, diciamo, logistici e varie associazioni multimodali. Ringrazio e spero che ci siano poi le domande. Grazie. Grazie.